Sta per compiere un anno l'alluvione di settembre scorso che aveva stato Cantiano, Senigallia e quella porzione di territorio marchigiano, poi ce n'è stata un'altra di calamità naturale, ci sono state le problematiche del sisma, diversi problemi ma ancora le risorse stentano ad arrivare. Si è lamentata l'Emilia Romagna recentemente in tal senso e nelle Marche la musica non è tanto diversa. Se noi teniamo conto che si è lamentata l'Emilia Romagna che ha avuto l'alluvione nel maggio del 2023, pensate quanto hanno diritto di lamentarsi tutti quei territori che hanno avuto l'alluvione nel settembre del 2022. Ricordo un'alluvione devastante che ha creato anche delle vittime ma che purtroppo dopo gli annunci che sono stati fatti dello stanziamento di 400 milioni di euro, a tutt'oggi le risorse realmente arrivate in tasca ai cittadini, alle imprese ma anche agli stessi comuni che hanno anticipato le risorse sono ben pochi. Proprio in questi giorni ho fatto una verifica, ho cercato di capire con il comune di Cantiano, in realtà per quanto riguarda Cantiano rispetto alle risorse che il comune ha anticipato per la messa in sicurezza attualmente gli è arrivato circa il 33% di quello che hanno speso, quindi vuol dire che il resto hanno fatto comunque dei mutui, sono fuori rispetto alla propria contabilità, per quanto riguarda i privati e quindi i singoli cittadini ma anche le imprese che hanno ricevuto danni, siamo a una percentuale che va dal 12 al 17%. Quindi a distanza di un anno, oltre all'annuncio di 400 milioni, la Regione Marche attualmente ha già 100 milioni nel conto corrente ma non si riescono a distribuire queste risorse. Questo perché? Perché i comuni stanno denunciando ormai da mesi dicendo che è necessaria una cabina di resia, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, così come era stato fatto per il terremoto che era stata istituita, come dire, un ufficio della ricostruzione, a mio avviso era necessario mettere in piedi un ufficio per l'alluvione perché parliamo di comuni piccoli che non hanno il personale, che non sono in grado di poter fare tutte quelle procedure o meglio che richiedono tantissimo tempo. Per quanto riguarda invece l'evento sismico del novembre 2022, ancora non si sa niente, è stata annunciata, come dire, lo stato di emergenza, ma ancora non sono stati definiti nessun tipo di decreto, sono state stanziate, mi sembra, sui 4 milioni di euro, ma queste risorse sono rimaste lì dove erano. Quindi ancora nei comuni, nei singoli privati, nelle imprese che hanno ricevuto danni, la gran parte riguarda il nord delle Marche, quindi la provincia di Pesaro Urbino, hanno ricevuto un soldo. Rispetto all'ultima alluvione, cioè l'alluvione di maggio del 2023, che poi è quella che è riconducibile in parte a quella anche dell'Emilia Romagna, i privati, lo voglio sottolineare, i privati e le imprese, ancora non si sa neppure che tipo di rimborso, cioè per che cosa potranno avere il rimborso. Sono molti cittadini e le imprese che mi contattano per capire quando arriveranno questi rimborsi, ma ancora non si sa nulla. Per quanto riguarda invece le risorse messe a disposizione per il Comune, cioè per quelle spese che il Comune ha anticipato, ad esempio per il Comune di Pesaro parliamo di circa, di oltre 500 mila euro, ma i 240 mila euro che il Comune aveva segnalato, ad esempio per il ripristino della strada di Florenzuola, cioè la strada che collega Florenzuola abitato con il mare, la protezione civile addirittura ha detto che questa non è una strada strategica. Io penso che veramente manca una regia anche politica o non so di che tipo, perché pensare di andare a dire, che una volta che il Comune ti fa una segnalazione, ti presenta dei conti, ti dice che quella è una strada che loro vogliono sistemare, tu gli vai a dire che non è strategica. È una zona che ha ricevuto un incendio qualche anno fa. L'unica strada che consente di collegare il paese, quindi con la spiaggia, ma consente soprattutto di poter andare con i mezzi di soccorso, ad esempio i vigili del fuoco, lungo la Falesia e solo con la strada lì, non considerare la strategica per l'emergenza, ad esempio in un caso di incendio, dal mio punto di vista è veramente incomprensibile. Dall'altra parte non è solo il vigili del fuoco, se pensate al 118, cioè la Croce Rossa, se dovesse andare a fare un intervento in spiaggia, oggi non riesce a andare perché non ci sono i guardraite, perché durante i movimenti franosi sono stati appunto i guardraite portati via e anche la stessa strada è a rischio.